Non lo so, anche perché insomma devo trovare qualcosa che possa andare bene a tutti, magari faccio quelle tracce nascoste, comunque siete tantissimi come sempre e vi ringrazio perché veramente queste cose, questi progetti riescono, dall'altra parte c'è chi li sostiene e voi lo state facendo. Io sono in chiusura e naturalmente vi ricordo anche il progetto Simona non solo radio, su Patreon, ci sono altri contenuti, contenuti che però voi siete i protagonisti quindi potete lanciarmi di voi i contenuti. Quindi vi aspetto, vi aspetto ancora su YouTube se non sapete cosa fare ogni tanto date un'occhiata e magari mi ritrovate anche come live. Questo fine settimana sarò alla Fiera Nazionale della Meccanizzazione Agricola in mezzo ai trattori, ai trattoristi, insomma tutto di più e chi lo sa che non riesca a farvi un saluto magari con un video, non lo so, vedremo. Intanto